Il comportamento del Prefetto Panza, nonché capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, non può certo lasciarmi indifferente nel momento in cui si discosta col suo atteggiamento dai poliziotti stessi. Il fatto di manifestare comunque solidarietà nei confronti della famiglia di Aldograndi, ciò non significa che può palesare un comportamento del tutto inaccettabile da parte di un capo della Polizia, di giudicare comunque anche un applauso rivolto a titolo di solidarietà nei confronti di alcuni colleghi che stavano partecipando a un congresso. E' questa la presa di posizione di Gianluca Pantaleoni, segretario nazionale del CONSAP. Dopo le polemiche scaturite a seguito degli applausi che hanno accolto i quattro agenti condannati per la morte del 18enne Federico Aldovrandi. Il giovane è morto durante un controllo della Polizia a Ferrara il 25 settembre del 2005. Parole dure da parte di Pantaleoni anche nei confronti del ministro Alfano. Il ministro dell'interno e il capo della Polizia sono i primi rappresentanti della Polizia di Stato, quindi nel momento in cui rappresentano l'istituzione si arrovano quindi anche tutti quei comportamenti che in maniera giusta o sbagliata comunque vengono commessi. Non voglio fare paragoni o confronti, ma abbiamo avuto un capo della Polizia Manganelli che c'è stato un momento in cui ha chiesto scusa. Non posso pensare che un capo della Polizia va dicendo che abbiamo un Polizia e un cretino ad identificare.